I carabinieri del comando stazione di San Giovanni Appiro, agli ordini del maresciallo aiutante Roberto Ricotta, all'esito di un blitz anti-abusivismo edilizio, hanno denunciato 14 persone per aver costruito, in assenza di autorizzazioni, 8 manufatti per una volumetria complessiva di circa 300 metri cubi ed un valore di circa 500 mila euro.